Siamo a Bari Vecchia e quest'anno sono qui per l'inaugurazione della scuola open source. In questa occasione noi siamo chiamati a contribuire a una fondazione. Abbiamo passato una settimana di grande passione e di grande anche sforzo intellettuale tutti quanti. Se riusciamo a portare a termine questo compito avremo tutti contribuito alla inaugurazione di questa nuova realtà. La scuola open source avrà quindi sede qui nel cuore di Bari Vecchia, un posto labirintico e meraviglioso secondo me. Ed è un contesto urbano sociale molto particolare. Ecco la cosa principale che vorrei mettere in evidenza è che questo posto sa molto, sa povero nel senso del sapere e del sapore, sa molto di Mediterraneo. Più di mille, mille e cinquecento anni fa è stata la culla della cultura europea. Il Mediterraneo secondo me dovrebbe essere la culla di una ripresa di quella stagione, una ripresa della cultura, una ripresa di un riscatto sociale che sappiamo attende già da molto tempo. Ecco una scuola di questo tipo può aprire degli spazi sia di inventiva, di progettazione, può aprire spazi mentali, di immaginazione. Una scuola di questo tipo può portare o può iniziare a portare a sud tutto questo.